ciao a tutti oggi prepareremo la lemon cake il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa gli ingredienti sono per la torta succo di limone pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone zucchero uova sale latte olio di semi di girasole farina di tipo doppio zero fecola di patate lievito per la glassa zucchero fecola di patate acqua succo di limone e la scorza di un limone andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola posizionare la farfalla sulle lame aggiungere le uova ed azionare il bimbi per otto minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino azionare il bimbi per due minuti a velocità 3 e dal foro del coperchio unire il limone il zucco di limone l'olio il latte e il sale e aggiungere la farina la fecola la pasta di limone e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 trasferire uno stampo del diametro di 24 centimetri ben imburrato infarinato cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 50 55 minuti circa fare sempre la prova stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo nel frattempo preparare la glassa abbiamo lavato e asciugato bene il boccale mettere lo zucchero la scorza di limone ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il succo di limone l'acqua e la fecola di patate ed azionare il bimbi per 8 minuti 90 gradi velocità 4 la glassa è pronta versare sulla torta e servire lemon cake grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti per aver guardato il cassetto